Conoro, una bella sensazione comunque quando sei vicino al mondiale? Assolutamente, voglio essere qui oggi per mostrare il mio sostegno di questo gruppo, è una grande grande cosa per tutti i donne, è un grande obiettivo, sono sicuro per tutti di andare e loro vanno ad un buono paese anche per... Lo conosci? A conoscere meglio, loro sono molto eccitati in irlandese di avere questo tournament e voglio essere qui oggi per dire un grande bacco al lupo a tutti. Tu quando eri in Irlanda seguivi il rugby femminile irlandese, lo vedevi con il movimento del rugby in Irlanda femminile? Il movimento del rugby femminile è molto meglio di dieci anni fa. Loro hanno perso il loro capitano nei Briggs prima del tournament, è difficile per loro ma tutti i loro partiti sono soldati. Tutti i biglietti sono soldati per le partite con Irlanda ma sono sicuro che tutti i donne hanno una grande grande esperienza a Dublino e a Belfast spero. Che sensazione hai dopo la tournée ultima tra i maschi della tua nazionale? Sono contento ma voglio vincere. Sono sicuro che facciamo la giusta cosa a questo momento, non solo per la squadra nazionale ma anche per tutti i nostri sistemi. Come ho detto alla squadra dopo la partita contro l'Australia, se facciamo le giuste cose quando giro l'angolo diventiamo una buona buona squadra. Sono sicuro ma a questo momento è confidenza. So che giochiamo all'alto livello e impariamo all'alto livello anche. è difficile. Per solo giudicare me sui nostri risultati, that's fine. Sono contento con questo ma voglio fare una differenza come ho detto sempre, voglio fare una differenza per il sistema e per il Rugby in Italia. Non sono sicuro che facciamo la giusta cosa. Quindi un po' cambiando il sistema, anche il modo di, adesso il calendario, il fixture, il Super 10 diventerà Super 12, tutto un sistema che va cambiando, è importante anche? Sì, è molto importante. La prima cosa per noi è fare la giusta cosa per il nostro sistema e penso che durante la Solventi, la Coupe du Monde, è una buona squadra. durante la sei nazioni è difficile per loro ma loro molto vicino alla vittoria durante la sei nazioni e durante questa Solventi World Cup è un buon turnio per loro. Abbiamo i giocatori giovani ma anche abbiamo i giocatori con esperienza, abbiamo il nuovo allenatore di fitness e lui fa una grande differenza per noi. La grande cosa per noi è sempre la nostra mentalità e la nostra confidenza. È non facile avere la confidenza quando abbiamo questa confidenza. Sono sicuro che il nostro risultato è molto molto meglio anche. Quindi a novembre cominciamo a vincere? Spero, ma voglio che la nostra prestazione è la stessa contro la Fiji e contro l'Australia, non contro la Scozia, ma è difficile la humidità di Singapore. Ma contro la Fiji, contro l'Australia, contro l'Inghilterra. Come ho detto, siamo lontano ma non siamo lontano. E quando giro l'angolo sono sicuro che il nostro risultato è molto molto buono. Spero perché tutti vogliono vincere. Con settembre e ottobre voglio vedere tutti i giocatori giocare bene per i loro club. Grazie. 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 Grazie.